Buttiamoci nell'atmosfera di Torino Olimpica, Torino 2006, la neve, la città che risplende, una città tirata a lucido con un sacco di sfaccettature che fino a quel momento forse non sapeva neanche di avere, tutto sommato, è lì che è diventata città laboratorio, tutto sommato, o che comunque se ne è avuta conferma che poteva essere città laboratorio. Anzitutto la domanda è principale, perché decidere di ambientare un romanzo che poteva tranquillamente essere ancora più contemporaneo in un periodo invece rispetto al quale si è preso un po' di distacco? Dunque, beh, c'è una duplice risposta. La prima è che il primo soggetto è stato scritto, diciamo così, a ridosso delle Olimpiadi, non proprio nel 2006, ma l'anno dopo. Quindi l'Olimpiade era ancora... Nell'aria. Sì, nell'aria. Anche perché faccio una piccola prevenza, sia io che Davide abbiamo lavorato per l'Olimpiade e quindi siamo riusciti a vedere da vicino questa enorme macchina che sicuramente ci ha affascinato in bene e in male. Poi il soggetto, come tutte le cose, è rimasto nel cassetto e abbiamo deciso di ritirarlo fuori poi alcuni anni dopo e ovviamente è stato mantenuto quello che era, diciamo così, l'impostazione. La seconda risposta è che noi, da torinesi, perché ovviamente siamo di Torino, siamo stati favorevolmente così stupiti da come la città ha saputo in poco tempo cambiarsi e presentarsi agli occhi del mondo. Quindi non ci pareva neanche più Torino. Forse non è una sensazione personale, ma un po' a tutti nel ricordo la città in quel periodo era un qualcosa di nuovo, un qualcosa di europeo, di una grande città. E allora ovviamente anche questo ci ha inorgoglito e ovviamente abbiamo deciso di raccontarla dal nostro punto di vista, insomma mettere in risalto, fare in modo che la città fosse un po' la scenografia di questa nostra storia.